Utilizzo completo dell'animazione, a proposito di video futuri, aiuto televisione. Vantaggi dell'animazione su vasta scala Le informazioni sono facili da trasmettere. Per spiegare usando illustrazioni e figure. Contenuti facili da capire per gli spettatori diventare è un grande vantaggio dell'animazione su vasta scala. Quando gli esseri umani hanno le stesse informazioni visive e uditive facile da capire diventare per le sue caratteristiche. L'animazione a grandezza naturale migliora la comprensione degli spettatori. È un buon mezzo per approfondire. Facile da vedere fino alla fine. Animazione a grandezza naturale fino alla fine ha la caratteristica di essere facile da vedere. Il tasso di prelievo è basso perché gli utenti tendono a chiedersi che tipo di illustrazioni usciranno dopo. In effetti, l'animazione in scala reale ha un alto tasso di ritenzione della visualizzazione dell'80%. Inoltre, poiché gli esseri umani seguono gli oggetti in movimento con gli occhi, l'animazione a grandezza naturale è migliore dei media che utilizzano testo e immagini fisse. È facile attirare l'interesse dello spettatore. L'animazione su vasta scala è un video che trasmette contenuti agli spettatori in modo facile da capire. Ha anche il vantaggio di avere un alto tasso di fidelizzazione e di attirare facilmente l'interesse degli spettatori. Produzione di animazioni su vasta scala, espressa in modo facile da capire con animazioni, foto e video, lo faremo ad un prezzo stracciato. Si prega di iscriversi al canale. Aiuto televisione. Al prossimo episodio